Immigrazione, politica, tessuto economico e paura del diverso. Una sintesi degli argomenti che scaturiscono da un incontro congiunto che ha visto i rappresentanti delle ambasciate del Burkina Faso, Nuova Guinea, Afghanistan e Legaraba incontrare istituzioni politiche, rappresentanti di Confindustria, Ordine degli Avvocati e l'Arcivescovo di Pescara Penne, Monsignor Tommaso Valentinetti. Tanti punti di vista che confluiscono sull'idea di accoglienza. Una delle chiavi di lettura di questo processo di immigrazione che abbiamo può essere proprio quella di creare fuori dall'Italia in questi paesi sistemi di economia e la presenza dell'impresa. L'impresa poi va nei paesi dove trova stabilità politica, sistema bancario maturo e possibilità di sviluppo. Noi istituzioni dobbiamo riflettere sul senso di appartenenza alle istituzioni ma allo stesso tempo il concetto di accoglienza per noi deve essere un aspetto diciamo incontrovertibile di fronte al quale bisogna soltanto immaginare un'organizzazione efficiente per evitare i disservizi che ne vengono fuori. È Monsignor Valentinetti a lanciare l'invito più importante, quella non essere vittime di strumentalizzazioni politico-economiche e ricordare che la paura distorce spesso anche i valori più sani e radicati, comprese le coscienze. Perché queste persone sono esseri umani e in quanto esseri umani vanno rispettati ed accolti e in quanto uomini e donne create da Dio sono figli del Signore anche se hanno una religione diversa dalla nostra. E allora credo che sia importante e fondamentale avere questa attenzione è soprattutto non lasciarsi strumentalizzare dalla paura perché la paura è cattiva consigliera in questa situazione e lasciarsi strumentalizzare soprattutto di chi forse da una parte vuole speculare cercando fette di consenso politico e dall'altra parte vuole speculare perché magari su questa presenza degli immigrati si possono guadagnare dei bei soldini.